In questo sistema che la sentenza ci ha emesso, prima eravamo abituati in una maniera, adesso dobbiamo cambiare tutto il nostro programma di lavoro dopo aver la sentenza. Noi speravamo che la sentenza, pensavamo che dopo l'appello ci fermavano la sentenza del 12 del Milano, ma all'appello di Milano hanno riviato tutto al 10 aprile 2018.